Salve a tutti amici di Professione LED, quest'oggi facciamo una nuova recensione di un prodotto per esterno, un lampione stradale con il pannello fotovoltaico. Cosa significa col pannello fotovoltaico? Significa che il prodotto non deve essere collegato alla corrente, ma in autonomia si ricarica e poi quando è sera si accende, come vedete adesso, e quando arriva il giorno si spegne autonomamente. Io adesso vi faccio vedere la differenza tra quando è acceso, come in questo momento, e quando è spento. Quindi potete vedere che pur essendo un prodotto da soli 900 lumen, 890, fa una luce davvero eccellente. Funziona attraverso questo telecomando in dotazione al quale possiamo dare diverse funzioni. Io adesso voglio farvi vedere anche come è fatto, quindi un attimino, anche se non si si vede, probabilmente senza luce si vede poco, però ecco mi avvicino come è fatto il pannello, il faretto. Adesso salgo anche sulla scala, vi faccio un attimino vedere come è fatto dietro. ecco, potete vedere che ha il pannello integrato dietro e qui davanti c'è la struttura con i LED. Ecco, purtroppo si vede poco, ecco qua. In questo caso con due piastre chip multiled. Poi davanti a un sensore, adesso io un attimino scendo, vado anche a prendere il telecomando che mi è caduto, e vi riaccendo la luce. Tutto in diretta. Ecco qua, potete apprezzare questo prodotto che ha un'autonomia di 12-16 ore e si ricarica in 4-8 ore. Ha anche una funzione che adesso vi faccio vedere. Io gli posso dire di andare quando non c'è nessuno, adesso io mi allontano, lui va a modalità 50%, ecco qua, quando non rileva nessuno. Aspettiamo un attimo che vada al 50%, mi allontano dal sensore. Poi quando io mi riavvicino alla fonte luminosa, lui riva al 100%. Ecco qua, avete visto come si abbassa, quindi fa un ulteriore risparmio energetico. Poi se io mi avvicino, quando lui mi rileva, va al 100% in automatico. Poi gli posso nuovamente dare, invece di funzionare sempre al 100%. Quindi adesso lui resterà sempre acceso, fin domani quando si troverà con la luce del sole e quindi in automatico si spegne. Poi nuovamente all'imbrunire il prodotto si accende. Come sempre in descrizione vi lascio il link di questo prodotto, ce ne sono due, uno da 40 watt e uno da 60 watt, quindi potrete scegliere quello che più vi serve. Il prodotto è IP65, quindi può stare tranquillamente all'aperto così come lo vedete qui. Se avete delle domande da farmi basta che mi scrivete a infochiocciolaprofessionelled.com oppure dai commenti di YouTube. A presto!